Minuto 45, la palla in area di rigore, parte un sinistro che termina all'angolino basso. Quasi non ci credevi, ci hai pensato un po' e poi la corsa sotto la curva. Sì, come ho detto già, è stato un gol un po' venuto così. Io non ho pensato a nulla, ho detto sposto il calcio, mi è andata bene, ho avuto fortuna e è andata così. Però per fare quella giocata non è solo fortuna. Ma diciamo, è stata un po' una giocata così, dai, mi è venuta spontanea senza pensarci troppo. Raccontiamo la storia di Brando Moruzzi. Arrivavi dalla primavera della Juve, ma già con un campionato di Serie D alle spalle. Sono servite tre settimane per prendere la fiducia di Zeman. Sì, io venivo dalla Serie D, ho fatto molta cavetta lì, mi è servito soprattutto per ambientarmi meglio. Era con i grandi, poi ho fatto primavera a Juve e adesso qui in prima squadra di sicuro sono più avanti rispetto a uno che ha fatto solo primavera. Però c'è ancora molto a lavorare. Il mio punto di vista, rispetto a quest'estate, la tua crescita esponenziale è stata soprattutto sull'assetto difensivo. Ora difendi molto bene, in estate qualche lacuna c'era. Eh sì, sì, perché il mister lo richiede e quindi in allenamento ci sto molto attento e mi ci alleno molto sulla fase difensiva. Cosa farai con il video del gol? Ma non lo so, lo manderò al gruppo della mia famiglia e ce lo godiamo. Cosa farai con la mia famiglia? Cosa farai con la mia famiglia? Cosa farai con la mia famiglia?